Salve gente, sono Mandicube e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di questo let's play Come annunciato farò la farm di pane, ovvero quello che prenderà il nostro grano, lo convertirà in pane e lo rimanderà nel nostro sistema In modo da mandarlo dove ho messo il pane, no qua ci sono i semi, qua Prima che vi facciate illusioni, questo ho già spostato tutto il grano che avevo Probabilmente quello che sta veramente producendo sono questi ultimi 4 stack L'episodio lo sto girando a breve distanza l'uno dall'altro Innanzitutto volevo fare un sistema con le crafting table, metterne una ciascuna per ogni Per ognuna di questi fori che ho lasciato nel nostro circuito e dargli alcune funzioni particolari Non a tutte in realtà, volevo farne una che prendesse il grano e lo mandasse alla farm di pane Una che prendesse le carote e il grano e le mandasse alla fattoria, quella che abbiamo, l'allevamento Che prima o poi ci finiranno anche tutti gli altri animali, lo prometto E un'altra in cui mandare carote, patate e pane allineato col centro Questo perché le manderemo da questo tubo, lo devo spostare per cadersi dentro E quello verrà mandato sotto forma di cibo alla farm di villager Ma cominciamo subito a fare il nostro lavoro, dovrebbe essere abbastanza semplice Non è un lavoro esagerato e non è che ci abbia messo così tanto a progettare una cavolata del genere Anche perché ho copiato un pochettino un modello che c'era prima Ok, innanzitutto scaviamo qua sotto E mettiamo una slab qui Una slab perché voglio fare in modo che la farm possa essere accesa e spenta E immediatamente piazzo la slab nel posto sbagliato Vieni a me, là Qui Ma non voglio che crei problemi alla circuiteria sottostante Cosa che invece capiterebbe Mi servono ora gli hopper e ne piazzo uno qui In totale sono quattro E' la distanza che ho calcolato perché vada tutto bene, non si creino casini Tac, tac E l'ultimo lo facciamo puntare in questo carbone Scendiamo verso il basso Già che ci sono, scusate ma raccolgo il carbone Devo assolutamente cominciare a commerciare con i villager e trovare qualcosa con fortuna Ho una quantità di minerale enorme e una quantità di non minerale Nel senso minerale già scavato tipo carbone, ferro eccetera Che stanno drasticamente diminuendo Mi chiedo perché c'è questo strano effetto di non avere nulla se non scavi nulla Ferro credo di averne tipo 16 stack o qualcosa del genere sotto forma di minerale Però effettivamente potrei cuocerli anche senza fortuna Non è una scusa per quello, il problema è il carbone Il carbone ne ho una doppia cassa Però è tutta sotto forma di minerale Mi dispiace per questo buco gigante perché probabilmente è inutile ai fini della costruzione Un pochettino serviva per ospitare tutto quello che ci doveva Oh ma scende ancora Un pochino mi serve ma non così tanto Vabbè illuminerò tutto Questo buco rimane chiedo scusa ma non ho la voglia nei materiali per ritapparlo Ok carbone a me Scusate per la piccola interruzione carbonica Ma è un aggettivo carbonico sì Viene usato in chimica non c'entrerebbe nulla assolutamente nulla con minecraft Ma non credo che importi a nessuno al momento Ok Qui posso tappare Dovrei avere della stone comunque Ok 17 Cosa stavo facendo fino a 6 secondi fa Ok Una torcia lì per quel buco gigante Una qui E per il momento dovrebbe bastare Piazzo quindi il nostro dropper Il risultato è abbastanza semplice Quando questa leva è tirata L'hopper qua di fianco è bloccato Il grano non può passare Merda il grano sta passando Perché non ho fatto minimamente attenzione alla cassa Ora può passare Non può più passare Ne sta arrivando dall'alto Questo affare qui è stato un mio errore personale Chiedo scusa Dovevo tirare immediatamente la leva Prima di mettere l'hopper Ormai è troppo tardi Quindi proseguiamo così Andiamo verso l'alto Faccio lo stesso identico modello dell'altra volta Per quanto riguarda Smart Dispenser Dove è Smart Dispenser? Non ho ancora visto Smart Dropper Non so perché Anche se sono diversi Ok Blocco Un blocchetto di Reston Qui ha finito Si sta ancora riempendo Ok Di qua posso uscire in qualche modo Scusate per tutti gli imprevisti Tipo la mia stupidità Quel carbone che è arrivato dal nulla Ok Grano 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 E grano Non sta passando E l'ultimo componente da mettere qua È una rotaia Come ho detto Il meccanismo è molto semplice Ah no È di qua Scusate Abbiamo il nostro dropper Quando c'è anche un solo oggetto dentro Il comparatore si attiva Attiva la Reston Dà energia a questo blocco Che alimenta la rotaia E già che c'è alimenti in diagonale il dropper Ovviamente in diagonale il dropper Non si accorge Però è baddato La rotaia serve appunto a quello Il suo update Causa un update anche al dropper E quindi lo fa emettere Ok Dovrei ora mettere Una Una fonte di luce qua sotto Per il nostro villager Ovviamente la farm è a villager Non sarò io a craftare tutto il pane Non avrebbe senso E sarebbe noioso per Da parte mia Mettermi costantemente a craftare il pane Una slab qua Facciamo almeno dei muri decenti Per il nostro villager Dato che comunque questa sarà casa sua Per il resto dell'eternità Blocco Rischia di esserlo anche per me Se non faccio estensione Devo riuscire a non bloccarmi qua dentro Come un imbecille quale sono a volte Blocco Lì non deve essere bloccato Qui deve essere almeno carino da vedere Carino da vedere Lì abbiamo bisogno di un pezzo di string Mettiamo qui E sopra un tappeto Questo perché il meccanismo è molto simile A quello delle farm di grano che ho messo intorno Il nostro villager Proverà a passare del grano a un suo amico Ma non ci arriverà perché il suo amico è troppo in alto Ok Blocco qua Blocco qua E quando ho finito Blocco qua Blocco qua Sì è calata la notte Dormiamo osservando le chiappe di Aerobrine Ho ucciso la sua prole quindi probabilmente la sua ira sarà devastante Oh dovrebbe anche aver smesso di piovere Minecraft Allora quale dei due è il farmer? Questo qua Come vi ho detto negli scorsi episodi non è importante la sua professione Nel mio caso è un pescatore Me ne frega qualcosa? Assolutamente no L'importante è la skin che ha Quella Solo il saio marrone è quella del contadino Quindi il mio è un contadino Ok Conduciamolo al luogo della sua permanenza eterna Sembra che lo sto per uccidere ma In realtà non lo sto per ammazzare Probabilmente preferirebbe essere ammazzato rispetto a quello che faccio Ok Andiamo di su di qua Via la torcia Di qua Via la torcia Blocco temporaneo Facciamo un ponticello in modo che possa passare E lo mettiamo qua Andiamo a prenderlo Ho finito le rotaie Così tante solo per portarlo da qui e lì? Pare strano Ne prendo ancora un paio giusto per sicurezza Tanto i mineshaft qui intorno ne sono pieni Non è neanche un problema craftare Per tutte quelle là sopra le ho dovute craftare un bel po' Ma non ho più intenzione di farlo Non dovrei più fare così enormi circuiti a base di minecart Ok Minecart qua Anzi no lo intrappolo da dentro Perché lo devo intrappolare da fuori Scusate Tac Buongiorno buon uomo Rompiti là Ok Sotto Oh che bastiano contrario che sei La Perfetto Preso E adesso ti mandiamo a casetta tua nuova Vai Questo deve essere per forza un contadino Dato che sono gli unici a essere in grado di craftare il pane E' importante E' importante notare che avevo una mia paura che se avessero l'inventario completamente pieno non riuscissero a craftare il pane Per fortuna non è così Per fortuna non è così e se hanno l'inventario pieno di grano sono comunque in grado di craftare il pane Ok Vediamo adesso di non ammazzarlo Probabilmente non ci riuscirò a mano Via vai giù Ancora un pochettino Di un micro non ho sbagliato Perfetto Il nostro villager è intrappolato lì per il resto dell'eternità Serve ora un altro Perché altrimenti non lancierebbe via il proprio grano Il grano non può comunque Scusate Il grano non può comunque lanciarlo via Quello che vorrebbe lanciare veramente ma non può E' il pane Una volta craftato Dovrebbe essere tutto a posto Metto solo una torcia qui per evitare che spawni qualcosa Anche se non dovrebbe poter spawnare nulla Non dovrebbe essere possibile per nulla spawnare su un tappeto Sospeso a mezz'aria su una ragnatela Ok E questo qua invece è un emerito nessuno Blocco Perfetto Buongiorno Ti va di lavorare per me per il resto dell'eternità non retribuito? Sì? Veramente? Ah ho controllato questo bibliotecario I suoi libri mi fanno abbastanza pena Ha un looting ma è un looting 2 Non so neanche se tenerlo a questo punto Direi che sarà molto più utile come obiettivo per il pane Vai dentro Perfetto Chiuso Ora Ovviamente c'è il problema Che questo pane non sta andando da nessuna parte Ah ho modificato Ne approfitto per farvi vedere una piccola cosa che ho modificato Ero stufo di rischiare che la roba si andasse aperta L'ho scoperto che in realtà non succede nulla Quindi questo lavoro è inutile Ho modificato qua E ho tolto il cactus L'acqua prosegue e finisce in un canale qua sotto Il canale è semplicemente dritto e si mette di qua Di qua farò arrivare le altre coltivazioni Cane da zucchero, zucchero, anguri eccetera E si connettono di qua insieme al canale secondario E al canale di grano, carote e patate Dobbiamo ora connettere il tutto Vado qua sotto Ok Perfetto Volevo quindi mettere dell'acqua L'acqua la metto Da questa parte Devo un attimo ragionare solo su come mettere acqua e ghiaccio Ok Il ghiaccio va qua L'altezza è 65 Ok Nessun problema Tranne i blocchi sopra la mia testa Quelli sono un pochettino un problema Saliamo su E andiamo qua Questo blocco lo lasciamo stare Ma continuiamo a scendere Ecco qua Voglio che gli oggetti arrivino esattamente lì 23 66 E 65 Proseguiamo Credevo fosse più in basso se devo essere sincero Forse non ho tanto spazio di manovra Ma non dovrebbe essere un problema Ok Il villager è pronto Lì ci andrà il ghiaccio Quindi qua mettiamo i nostri blocchi da costruzione Anche qui Facciamo un bel So che è uno spreco Però mi pare il caso di farlo Un bel canale per gli oggetti Almeno che loro stiano bene So che la mia casetta fa piccola È piccola Penuose Il granaio anche Che stanno probabilmente meglio i villager di me Anche se li faccio lavorare Ed è forse per quello che li faccio lavorare all'infinito Ok Blocco Blocco Userò di nuovo l'ascensore di test Ve lo linko senza problemi Anche se ormai credo di aver fatto una testa mostruosa a tutti quanti Un Harry Beat non mi pare più il caso Anche se questo Se devo essere sincero un pochettino l'ho rubato a lui questo modello Ma sono cose talmente piccole che non mi pare neanche il caso Di linkarlo per la quarta volta La quarta volta che lo linko Crea veramente delle belle cose Ma è esagerato la quantità di volte che lo linko Ok Me l'hanno fatto notare Lì c'è il blocco Devo far arrivare la roba qua sopra Ok Blocco anche qui Ghiaccio Io uso il pack ed ice In questo modo posso sempre metterci la luce vicino Se voi siete in grado di Se siete in grado di Fare in modo che tutto sia illuminato solo per il villager Ma non per il resto Fate come preferite No aspettate Questi blocchi non mi servivano Mi serve però una slab Quindi adesso dovrò salire da qualche parte No questo mi serve Questo mi serve Blocco Perfetto 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 Questo blocco L'ultimo non deve essere Ghiaccio Questo è perché stiamo facendo la sensore di test Due steccati Gli ultimi due blocchi Non devono Connettersi allo steccato Il nostro oggetto dovrà riuscire a passare in mezzo Perfetto Qua dobbiamo riempire tutto con una serie di blocchi Dovrò anche renderlo più carino Ma per il momento facciamo così E accontentiamoci Ok E la cosa più importante di tutte Dato che il nostro villager Probabilmente è smirato L'oggetto deve arrivare Storto Per farlo Semplicemente Modifichiamo il corso dell'acqua Da questa parte Così dovrebbe andare Ok In realtà non serviva a spaccare quel pezzetto di ghiaccio Solo quello in mezzo Perfetto Arredamento So che è esagerato So che è esagerato Chiedo scusa Però mi dispiace lasciare tutto Uno mi dispiace lasciare tutto brutto così Due So che mi dimenticherei Di mettere tutto quanto a posto dopo Quindi preferisco fare così Ok Ok Blocco E vediamo un po' di contare Per mettere l'acqua giusta Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ok Ah giusto Mi serve la slab Vado un attimo a prendere la slab E torno indietro Posso andare su di qua? Sì Probabilmente è notte già Vero? No Ancora giorno Perfetto Andiamo qua a prendere Avevo calcolato che quel villager Non dovrebbe mai avere problemi di otturamento Simili Ti ho messo? Sì là Posso un attimo il cerpame Allora Qua c'è posto Sì Questa è la doppia cassa di carbone Non so cosa farmene Vi giuro non ho proprio idea Qua ho il resto Ah ora sta calando la notte Uh avevo poro di aver fatto uscire Erobrine Ma no è tutto a posto Quello lo tolgo dopo Direi di poter proseguire qua Anzi mi prendo anche un altro secchio Scusate per i tempi dilatati di questo episodio Ok Erobrine Non sta riuscendo Perfetto Bravo Stai lì Stupido pollo Due secchi d'acqua dovrebbero essere più che sufficienti Dov'è il secondo? Qua Non dovrebbe neanche servire più ghiaccio Ma mi conosco quindi non mi fido Ve ne porto due Il pozzo Mi è stato consigliato di rimuoverlo e trasformarlo tipo in una fontana Cosa che non è assolutamente una cattiva idea Quindi probabilmente ci faccio un pensiero Ok Ah no è vero Ho fatto bene Non portarlo tutto Vediamo di raddrizzare un po' la corrente Sennò punta proprio in questo muro E l'oggetto non andrà mai dove vogliamo Ok Blocco Acqua E ghiaccio Ok Via questo Il blocco lo mettiamo qua Qua mettiamo il ghiaccio Ok Altro ghiaccio Così l'acqua può raddrizzarsi e andare nel punto giusto Questi ne ho ancora Sì Sì Ne ho un macello Perfetto Questo lo spacco E contiamo i blocchi di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 E 8 Dovrebbe tutto andare bene Tranne questa E lo mettiamo così Perfetto Perfetto Mettiamo a questo punto un secchio d'acqua dall'altra parte Sperando di non allagare il villager Ho una mira tale che potrebbe succedere senza ben che minimo problema Allora Blocco d'acqua Lì Perfetto Non ci resta che chiudere esteticamente tutto quanto Gli lascerei quello spazio lì per mirare bene Ok Blocco anche lì Blocco qui Blocco qui E giusto per evitare che finisca su questa slab e non esca mai più Blocco sopra Perfetto Blocchiamo tutto L'ho già fatto esteticamente guardabile Quindi non dovrei spaccare altri muri Ok Blocco Mi sono lasciato una via di uscita O sono un genio? Ok Sono un genio Perfetto Blocco qui E il resto può essere stone Non mi importa del resto Due pezzetti di terra Dovrò distruggere completamente tutto per fare un Per farlo esteticamente decente Ma per il momento va bene Ok Qua dovrebbe anche essere a posto Due stone brick E se tutto va bene Ora dovrebbe funzionare Allora Abbiamo il nostro grano Avete visto anche la produzione che abbiamo in questi brevi tempi Quando premo questo Il grano viene mandato dal nostro villager A questo punto lui dovrebbe vedere che il suo amico di fianco è affamato E dovrebbe provare a tirargli da mangiare Non so esattamente quanto tempo possa metterci per fare una cosa del genere Ah ecco qui Primo pane già pronto Non può essere riempito perché in pratica più grano ha in inventario Più è veloce a tirarlo Quindi è impossibile che si saturi completamente Abbiamo 40 Ah questo è il grano di prima Altro pane Non so se si vede mentre viene tirato Altro pane Ok direi che la farm funziona perfettamente Basta così Quanto pane abbiamo prodotto in così poco tempo? 52 La farm è completamente automatico Un pochettino di grano rimane dentro il nostro villager E ogni tanto ne perde un pochettino nel crafting Giusto perché Tenta di arrotondare Del tipo Se decidesse di usare abbastanza grano per fare 50 pagnotte e un terzo Consumerebbe tutto quel grano E però ovviamente non darebbe un terzo di pagnotta Il pane l'ho fatto arrivare qua in mezzo Ok Ne avevo già un bel po' perché quel villager sopra si continua a intasare Quindi era importante avere il pane da qualche parte Qui abbiamo il nostro grano Non è ancora arrivato di nuovo La cosa mi preoccupa Però dovrei aver concluso Il sort Allora Per far tirare le cose al villager Ho usato il modello che in pratica ho preso dalla farm Di una ribid E' quello centrale per farsi dare la roba I villager sono tutti e due a stecchetto Nessuno ha assolutamente del cibo Nel proprio inventario Il villager sotto deve essere un contadino L'altro villager può essere quello che cavolo mi pare Ho usato quel punto Quel dropper intelligente Che ha il difetto di essere lento E poter essere azionato da un solo hopper alla volta Però ho una sola catena di hopper Come lunghezza direi che andava abbastanza bene Non ha dato problemi a nessuno Quindi Ha funzionato perfettamente Spara il grano nel villager Il villager vede il suo amico affamato E crafta il pane e lo butta Arriva qua dall'ascensore di test Questo viene allineato Che viene allineato di fianco qua Con quella curva che abbiamo fatto alla fine E qua viene allineato sul fianco Da questa curva Prosegue e finisce nel nostro item sorter Questo da dove è arrivato? Non gli ho fatto più craftare pane La cosa è preoccupante Direi di poter concludere qui Nel prossimo episodio Probabilmente mi occupo Del tubo Che porta il cibo Da questa farm A quella di villager E completiamo finalmente Quella di villager È in sospeso Da un miliardo di anni Perché non avevo Il cibo necessario Per renderla completamente automatica Ora però ce l'ho Ho anche un tubo Nel prossimo episodio vi faccio vedere Come ho fatto il tubo Anche se è abbastanza semplice Gli dedicherò un minuto Giusto a farlo vedere E potremo avere i nostri villager Che si riproducono automaticamente Là in fondo E arrivano di qua Attraverso quest'altro Per il momento L'estetica è molto bella Probabilmente l'ho sposto anche Perché mi hanno suggerito un'idea Detto questo Vi direi per favore Di commentare il video Se vi è piaciuto Mettete un mi piace E iscrivetevi al canale Grazie mille per aver guardato E ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti